Chiedono la stabilizzazione che attendono da vent'anni e vogliono chiarezza su un futuro sempre più opaco. A Palermo tornano a protestare gli ex-PIP che alzano la voce. Il presidente della regione ha incontrato i sindacati per affrontare il grande nodo del precariato siciliano dopo che la Corte Costituzionale ha bocciato la legge regionale per la stabilizzazione degli ex-PIP. Sono oltre 2.600 i lavoratori di questa categoria che attendono novità sulla loro stabilizzazione. Abbiamo sempre lavorato e continuiamo, abbiamo lavorato anche nel periodo Covid quando c'era il famoso lockdown, i nostri colleghi, anche io, abbiamo lavorato negli ospedali dando una mano di aiuto a chi, agli infermieri e ai medici per poter lavorare. Siamo orgogliosi di tutto ciò, ma dopo vent'anni onestamente vogliamo essere chiamati lavoratori, vogliamo uno status giuridico di lavoratore. Quindi aspettiamo una risposta dal governo musumeci per quanto riguarda il suo famoso piano B.